Simone Cristicchi aprirà l'ottava edizione dei Cantieri dell'Immaginario in programma all'Aquila del 6 luglio al 1 agosto. Ben 27 appuntamenti, un cartellone che spazia tra spettacoli teatrali, concerti, balletti, monologhi, laboratori ed eventi per bambini. Hanno partecipato all'allestimento una ventina di associazioni coordinate dal TSA, con il sostegno del Comune e del Ministero dei Beni Culturali. Tra i big in programma, oltre a Chisticchi, che porterà il suo abicura di Metur, Claudia Gerini, Roberto Giacobbo, Flavio Insinna, Gabriele Cirilli, Vittorio Sgarbi, Getsiste Richard Galliano e Uri Kane. Gran finale il 1 agosto con Goran Bregovic. Il tema centrale della rassegna detto biondi sarà quello della contaminazione, associazioni più autorevoli che si sono messi a disposizione di associazioni più giovani, scambiandosi esperienze. Ci saranno due mesi di eventi che termineranno a settembre con la grande maratona del jazz. E ogni sera ci sarà, detto il sindaco, qualcosa da vedere. La maggior parte degli spettacoli si svolgerà nel piazzale antistante e il palazzo del Consiglio regionale, ma ci sono altre location, come il ridotto del Teatro Comunale, Palazzo Ciolina, Palazzetto dei Nobili, San Giuliano, il Convento e la Chiesa di San Silvestro. Il festival parla a tutti, sono eventi adatti a tutti, ha detto invece il direttore artistico dei Cantieri dell'Immaginario, il maestro Leonardo Di Amicis, che curerà il cartellone della perdonanza. L'impegno economico è di 240.000 euro, sono fondi Restart. Se ne sono aggiunti altri 8.000, stanziati dalla Presidenza del Consiglio regionale.